Si è parlato di religione nella mattinata di oggi, martedì 23 maggio, al liceo scientifico Torelli di Fano. A parlare di fede e credo sono stati un sacerdote cattolico, rappresentante della chiesa valdese, rappresentante della religione islamica e un eremita. L'iniziativa si inserisce nella programmazione della due giorni di autogestione dell'istituto Torelli, iniziata nella giornata di ieri. Un'idea nata insieme al Preside, abbiamo avuto l'idea di chiamare diversi rappresentanti di diverse religioni per discutere del senso di credere in Dio oggi. E' stato partecipato l'incontro? Sì, da parte di tutti gli studenti è stata un'attività partecipata da tutti. Come si svolgono queste particolari giornate? Gli studenti entrano in classe regolarmente alle 8 e alle 8 e mezza si fa il contrappello, cioè si controlla se gli studenti ci sono tutti, il normale appello che si fa la mattina. Alle 8 e mezza si spostano e vengono qui nell'aula magna dove le prime tre ore c'è un incontro speciale con degli esterni. Dopo la ricreazione si farà un altro contrappello e poi si inizia con le lezioni alternative. Anche queste scuole? Sì, sì, anche queste scuole. Siamo molto onorati di poter fare queste cose, dato che non tutte le scuole possono fare queste lezioni alternative. È una scusa per imparare tante cose diverse che regolarmente non si potrebbe fare. Quando è iniziata la sua esperienza e come è nata? Ho 59 anni, ho iniziato attorno ai 30 anni quando ho smesso di fare attività politica e altre attività. Nel 93 ho smesso di lavorare, mi sono ritirato e insieme a mia moglie abbiamo fondato un eremo che si chiama Eremo dal Silenzio e lì abbiamo cercato di dare concretezza a quel che sentivamo interiormente. La nostra essenzialmente è una scelta di silenzio, di vita nella consapevolezza, nella conoscenza di sé. Come vive la quotidianità? Io marzo molto presto, il mattino in genere è ancora buio e le prime ore le dedico al sito web, a scrivere qualcosa. Poi la mattina è nell'otto, nel giardino, a sistemare la strada perché stiamo in un posto molto isolato. Il pomeriggio o c'è qualche persona o leggo qualcosa o faccio una passeggiata. Poi a volte ci sono dei gruppi, il fine settimana. È una vita estremamente semplice, veramente estremamente semplice. È difficile fare questa scelta nel 2012? No, è semplicissimo. Qualunque scelta è buona, nel senso che ogni persona sceglie quello che è buono per lei. Per noi era buona questa vita qui, quindi noi non potevamo fare che questa vita qui. Tante riflessioni, ma anche contatto con l'esterno, dicevamo prima del sito, altre forme di comunicazione che adottate? I gruppi, sono gruppi di formazione, sono gruppi di meditazione, sono gruppi di crescita, sono gruppi di conoscenza di sé. La relazione con l'esterno è continua ed è impossibile non avere una relazione con l'esterno. Tutto è relazione. Non potrebbe essere diversamente e non impareremo niente se non ci fosse relazione. Siamo persone che tutti i giorni si possono trasformare proprio perché c'è la possibilità di relazione con il nostro prossimo.